Questo pilota guardate... ... 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 e vedete tutti i pilota guardate e frullate bravo avete visto che passaggio a quelli sensibili che a terra eh ragazzi abbiamo detto cosa ti presenta bravo bravo questo è il paracadistato ragazzi da me per questa sedia e che è un bel lavoro e da me a me a me a me Grazie per la visione! 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 Grazie! Grazie per la visione! Saluta! Saluta! Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!